Adele Garzarella, consigliere comunale con la delega alla scuola, alla cultura e al turismo, oggi insieme al sindaco Danilo Dorazio, presso la villa comunale, insieme ai bambini del centro estivo. Bambini che avevano sicuramente bisogno di questo momento dopo il periodo di, tra virgolette, clausura legata alla pandemia. Sì, buongiorno. Un centro estivo quest'anno ho pensato proprio per loro, per riapprocciarli un po' alla socializzazione che è mancata molto anche in un contesto così piccolo. Abbiamo pensato anche a un centro estivo pieno di contenuti, ci siamo avvalsi della professionalità di molte persone, sia in ambito sportivo, ambientale, educativo, in modo da dare anche qualcosa in più rispetto a un solo divertimento ecoludico, ma anche una cosa che potesse lasciargli qualcosa alla fine di questa esperienza. Ci vuole dare qualche numero, sindaco Dorazio? Sì. Buongiorno e grazie Antonio di nuovo per la tua professionalità e per questo servizio che ci dai a tutti i comuni della zona e della Val di Sangro. Per quanto riguarda il centro estivo quest'anno, come diceva la consigliera, abbiamo organizzato dal 9 di luglio e terminerà il 31 luglio con una festa con tutti i bambini e anche con le loro famiglie. Quest'anno abbiamo organizzato questo centro estivo al posto della consueta colonia estiva, non avendo normative di riferimento per esempio per il trasporto e quindi abbiamo deciso di rimanere comunque in paese. Questa è stata una possibilità data ai bambini anche per farli conoscere quello che è il nostro territorio, per farli conoscere meglio il nostro territorio. Comunque il centro estivo è stato organizzato in diverse lezioni ripetute durante la settimana sotto diversi punti di vista, sia per la conoscenza ambientale, per la conoscenza botanica, con l'orientering, cioè hanno fatto esperienza ad esempio di come accendere un fuoco, di come costruire una tenda, di come orientarsi quindi con i punti cardinali. Hanno fatto esperienze poi di attività proprio ludica e manuale, come stanno facendo oggi e domani faranno una passeggiata in un posto, con un itinerario che abbiamo, un itinerario turistico a quelle foreste per esempio, dove vedranno tante specie vegetali e in più abbiamo fatto un po' una punta, un fiore all'occhiello con un po' anche con un minicorso di atletica con degli esperti di questo settore. Torniamo dalla consigliera, la delega alla scuola è importante, sarà un banco di prova importante quello che ci sarà tra qualche mese perché bisognerà osservare vari adempimenti e non sarà semplice. Voi come vi state regolando? Noi ci stiamo coordinando con l'istituto comprensivo di Palina Torricella, che è un istituto comprensivo molto vasto, quindi adesso stiamo collaborando con gli altri comuni perché la nostra navale che lavora insieme, dovrà lavorare insieme e trovare delle soluzioni insieme, anche mettendo a disposizione degli spazi diversi da quello che è solo il polo scolastico ordinario, cercando una soluzione che possa dare ai bambini la possibilità di rientrare a scuola nelle migliori condizioni possibili, di sicurezza per loro, per l'insegnante e per le famiglie, che sia anche luogo di incontro e non solo di distanziamento. E chiudiamo con il sindaco, questo è un centro estivo, uno degli eventi estivi, oggettivamente non solo voi, un po' dovunque gli eventi sono purtroppo minori, notevolmente minori rispetto al consueto, ma tra le poche attività quale altra ci può segnalare qui a Cevitella? Sì, adesso veramente proprio in questi giorni abbiamo fatto un piccolo programma estivo del paese per il mese di agosto, abbiamo puntato un po' l'attenzione proprio sul territorio e sulla valorizzazione del territorio e anche dal punto di vista turistico, visto che nei fini settimana qui diciamo che ci sono molte persone, molte famiglie che vengono e visitano comunque questi posti e questi territori e quindi rispetto agli anni scorsi abbiamo notato che c'è un aumento di persone che si trovano qui. Quindi diciamo che abbiamo organizzato diverse manifestazioni, soprattutto culturali, quindi tre spettacoli teatrali che ci saranno tra la settimana tra il 15 e dopo il 15 agosto, e due passeggiate, una in montagna verso la casa del pastore, i sentieri della linea Gustav e una verso il bosco con le foreste e varie, diciamo, altre date minori, diciamo un piccolo programma però ricco magari dal punto di vista della qualità delle manifestazioni.